Vedi, ci sono solo due tipi di persone che sono molto sicure su ogni cosa nella propria vita, uno stupido e un fanatico. Quindi, se sei confuso, non sei nessuno di questi due, il che è un buon segno. Gli idioti completi e i fanatici sono sempre sicuri da morire su ogni cosa. Sanno che andranno in paradiso. Il loro unico problema è vogliono portarti con sé. Hanno bisogno di compagnia. C'è una cosa che accade ovunque, particolarmente nel mondo occidentale, ma è arrivata nell'india urbana alla grande oggi. Cioè, vuoi essere risoluto. È così. Vedi, io riconsidero la mia vita tutto il tempo. Tutto il tempo. Se dovrei continuare Sadhguru o dovrei diventare uno chef o dovrei tornare ad andare in moto o dovrei fare qualcos'altro o dovrei giocare a golf. Dovrei fare qualcosa o dovrei semplicemente ozziare. Perché no? Sto sempre valutando. Ogni giorno. E comunque prendo la decisione che è meglio fare questo. Sì. Non ho deciso. Sto ancora valutando. Ed è per questo che ha valore. Non perché ho deciso tanto tempo fa. non ho scelta. Continuo a fare la stessa cosa perché ci sono incastrato. La natura della mente è intelligente e viva. Solo se ogni momento sta osservando. Se ha concluso e deciso, è una mente ottusa. È buona quanto un blocco di legno. Ogni momento sta valutando. Solo allora è una mente attiva. È solo che fai questa scelta. Devi essere gioiosamente confuso. Dico solo questo. Le persone diventano confuse e infelici perché hanno un'idea che devono essere… pensano che tutte le persone di successo siano tutte chiare e siano determinate. Abbiano preso le proprie decisioni. No. Solo i fanatici sono così. E gli stupidi sono così. Uno che ha successo sta tenendo gli occhi aperti per qualsiasi cosa e ogni cosa. Giusto? Quindi questa idea che la tua mente debba aver deciso è un'idea sciocca. È importante che ogni momento sia una scelta per ogni cosa che stai facendo. La vita diventa bellissima perché c'è gioia enorme. Perché vuoi fare questo in questo momento. Siccome ho deciso dieci anni fa, lo faccio. Come farai ad avere la minima gioia in ciò che stai facendo in questo momento? Quindi ogni giorno al mattino ti alzi e non sai cosa fare? È un modo perfetto di alzarsi. Sì. Questo non significa che farai cose diverse ogni giorno. Anche se fai la stessa cosa è per scelta. Allora ti mantiene vivo in ogni cosa che stai facendo. Perché lo stai facendo per scelta. La scelta che stai facendo è ora. Potresti aver fatto la stessa scelta diecimila volte negli ultimi dieci anni. Non importa. Ma ora stai facendo ancora una volta una scelta attiva. Questo è molto importante. Solo così resterai vivo alla vita. Altrimenti ho fatto la mia scelta. Diventerà un peso. Ho fatto la mia scelta tanto tempo fa. Quindi devo farlo adesso. È un processo molto gravoso con cui convivere. Quindi la confusione è molto meglio delle sciocche conclusioni che le persone fanno sulla vita. L'unica cosa è che devi imparare a goderti la confusione. Sì. Io sto lavorando duramente per renderti confuso. Sì. A causa di ogni tipo di conclusione idiote sulla vita. Ogni tipo di conclusioni stupide. Vedi? Per tanto tempo la gente ha avuto questa conclusione che andranno in paradiso. Ok? Sto prendendo una cosa problematica adesso perché con l'Afghanistan in quanto situazione sta preoccupando tutti al mondo. Le persone destinate al paradiso. Ciò che fanno su questo pianeta è, siccome vanno in paradiso, ciò che è su questo pianeta non è di valore. In ogni caso loro vanno in paradiso. Quindi ora lo hanno messo in faccia tutti. È sempre così. È solo che la gente non lo vede più delle volte. Ma ora con la situazione geopolitica te lo sbattano in faccia. Noi andiamo in paradiso. Tu non ci vai. Quindi vedi cosa ti faremo. In ogni caso io non vado nel tuo paradiso. Non ho intenzione di competere con te nell'immobiliare del paradiso. Puoi lasciarmi stare? Ci siete? Sì. Io non vado in paradiso. Quindi voi siete persone destinate al paradiso. Dovresti ignorarmi. Non è così? Ma no. Non puoi. Perché la tua vita non prende il volo se io vivo. La tua vita prenderà il volo solo se ti sbarazzi di me. Non è così? Così queste cose accadono perché le persone hanno delle conclusioni. Come sono arrivati a questa conclusione? Chi li ha aiutati a trarre queste conclusioni? Sto prendendo una conclusione molto esoterica. Ma anche nella vita quotidiana questo accade. Qualcuno crede che sia giusto? Solo questa stupida conclusione. Quanti genitori hanno torturato i propri figli? Ci siete? Li amano ma li hanno torturati. Li hanno fracassati ogni giorno. Sì o no? Li amano. Li considerano la luce della propria vita ma ogni giorno tortura quotidiana. Perché pensano questo è il modo. Quello è il modo. Perché non puoi osservare ogni momento e vedere cosa porta al massimo benessere a questo e ad ogni altra cosa? Perché non possiamo osservare qual è il problema? Quindi se non sai come fare queste scelte, se ti stanno confondendo, il problema è che non c'è amore né dedizione verso nulla. Ok? Se c'è un senso immenso di amore verso qualcosa, tutte queste andranno a posto. Vedi, non ti serve la moralità, non ti servono i valori, non ti serve l'etica. Se sei consapevole, non ti serve nessuna di queste cose. Supponi che non sia possibile. La seconda cosa migliore è che hai un profondo senso di amore. Se hai questo, di nuovo, non hai bisogno di nessun valore, non hai bisogno di nessuna etica, non hai bisogno di niente. Perché di ciò che ami, ti prenderei cura nel miglior modo possibile. Siccome la gente pensa, penso che dovrei leggertelo. Perché la gente pensa che l'amore sia chiacchiere sdolcinate e sai, ti amo, mi ami, assurdità che vanno avanti ovunque. No, è un senso molto profondo di integrità e di dedizione. Non è così? Quando ami genuinamente qualcosa o qualcuno, c'è un enorme senso di integrità. perso di ciò. Non farai mai niente di dannoso a ciò che ami, se ami per davvero. Se l'amore è uno schema di beneficio reciproco, allora è una questione diversa. L'amore non è solo per le parole dolci o la tenerezza del contatto e le emozioni sdolcinate. L'amore è il caposaldo dell'integrità, del coraggio e del sacrificio. Chi altro, se non coloro che hanno il cuore impregnato d'amore, ha mantenuto il benessere degli altri al di sopra del proprio? Chi ha preso posizione contro minacce e pericoli? Se non chi è investito nell'amore? Chi, se non gli amanti, ha avuto maggiore volontà di sacrificare tutto ciò che conta e se stessi sull'altare dell'amore? L'amore è il più tenero e il più resiliente di tutti i tratti umani. Devi costruire qualcosa. Se non hai nulla, allora la possibilità di questa mente di considerare e riconsiderare ogni cosa in ogni momento diventa un processo doloroso. Altrimenti questo diventa un processo fantastico. Devi diventare consapevole o quantomeno amorevole. Ci siete? Una volta che hai questo, allora vedrai. Questa considerazione quotidiana non sarà dolorosa, sarà molto gioiosa e meravigliosa. Grazie a tutti.